Siamo al segno della bilancia, luna opposta nel segno dell'Ariete, quel settore ha a che fare con le unioni, con le società, ma anche con il matrimonio, con la vita di coppia e con le amicizie. Una luna che si avvicina a Durano è una luna molto forte per quanto riguarda le attrazioni, attrazioni proprio fisiche, la passionalità che potrebbe in qualche modo condizionare le vostre scelte in ambito sentimentale. Mentre per quanto riguarda il lavoro, questa è una luna in splendido aspetto con Mercurio nel segno dei gemelli e quindi è una luna che può portare dei vantaggi proprio sul lavoro, soprattutto se il lavoro che voi svolgete prevede anche la collaborazione di altre persone, un lavoro di equip in pratica. E poi questa è una luna ideale per chi ha la ricerca di un nuovo socio o di un sostegno importante proprio per quanto riguarda l'attività professionale.